Il telefono squilla in una finacoteca, squilla nella sala vuota a mezzanotte. I dormienti, se fossero stati qui, sarebbero stati svegliati subito, ma qui non si trovano solo i profeti insonni, solo i re che impalidiscono alla luce di luna e con il fiato sospeso fissano il non-mi-importa-nullo. E la moglie del usuraio, apparentemente presa da quel aggeggio squillande sulla mensola del cammino, no, non possa il suo ventaglio, dipinta come gli altri, rimane immobile. Eccelsamente essenti, assenti, vestiti o nudi, trattano questo allarme notturno con non-curanza, in cui, giuro, è più umorismo nero che se il maresciallo di corte in persona fosse sceso dalla cornice. A proposito, nelle sue orecchie non risuona altro che il silenzio. E il fatto che qualcuno laggiù, in città, già da un po' di tempo, ingenuamente tiene il ricevitore alla tempia, avendo sbagliato il numero, vive, quindi sbaglia. Buongiorno, buona domenica, è giusto iniziare un incontro su una poetessa dalla lettura della poesia sua, da cui poi, come avete notato, in ultima riga cade questo, che è il titolo dell'incontro che tanto affascina. Quando Armando Buonaiuto mi ha chiamato dicendo, Maci, magari puoi parlare, cosa ti viene in mente con il tema sbaglio? Beh, Szymborska, perché in Szymborska c'è questo bel versetto, vive, dunque sbaglia. E dunque ha detto, compro subito, ed eccomi qui. Cosa facciamo? Leggiamo, commentiamo, quattro poesie di Szymborska. Szymborska, per chi di voi è un pochino meno conosciuta, diciamo così, morta dodici anni fa, nata centun'anni fa, Nobel in letteratura, trent'anni fa, trecentocinquanta poesie. Ecco Szymborska nelle cifre. Poco, poco. Per me, dovrei fare quasi un interrogatorio a voi, perché per me rimane sempre la cosa misteriosa, perché Szymborska gode tanta popolarità, interesse, curiosità e conoscenza tra gli italiani. È una delle, cioè, è la poetessa più venduta in assoluto in Italia. Batte Marini, batte Luzzi, batte Dante, che ne so io? Szymborska. Si potrebbe dire, ditemi voi. Io si potrei dire, non ci capisco. Per giunta, per giunta, io ho questo vantaggio-svantaggio che, quando leggo le sue, questo che avete letto, ho tradotto io, perché le ufficiali tradotte da Piero Marchesani non sempre calzano, a dir vero. Queste poesie pubblicate da Adelphi, maggior parte sì, ma non sempre. Ogni tanto manca l'esattezza, è che se manca l'esattezza di parola, di precisione in Szymborska, ogni tanto il tiro è mancato. E ogni tanto, ovviamente, la poesia non è traducibile. Per questo mi meraviglio, perché gli italiani si incantano di Szymborska conoscendo le poesie tradotte. Lasciamo perdere interviste alla TV, un po' di pubblicità, questo che ha fatto salire un po' Umberto Eco, Saviano, altri personaggi che hanno proprio invitato, hanno dialogato con Leizia, un po' così, fatto la strada tra gli italiani. Vi faccio solo una breve degustazione, ma proprio breve per non spaventarvi. La stessa poesia, non tutta, ma due righe prime e tre righe ultime, vi leggo nell'originale, così vi rendete conto della distanza. E poi vi spiego ancora qualcosa su questa poesia. Guardate. Il telefono squilla in una pinacoteca, squilla nella sala vuota a mezzanotte. In originale. Roszvoniusche telefon v galerio braso. Roszvoniusche, sospustum salem opunotzi. La differenza notevole perché in italiano il telefono squilla in una pinacoteca. Nell'originale non è traducibile, perché certi verbi hanno una forma in lingua polacca che non sono traducibili. Però, volendo tradurlo con una forma di enfasi linguistica, diciamo così, squilla e squilla all'infinito, da lungo tempo ormai un telefono in una sala piena di dipinti. E poi continua, squilla e squilla e il suo suono rimbomba in questo spazio vuoto e buio. Meno così. Se volessi, se dovessi romanzare questo, ecco, dovrei moltiplicare molte parole, ovviamente anche soggettivo. In Szymborska è importante questo, incisa, ma incisa nel materiale linguistico che era il suo, cioè quello polacco. Tradotto, travasato, si potrebbe dire il tè, sempre il tè, ma il tè anche va servito in tazze giuste. Cambiato tazza, il tè può avere un gusto diverso. Dunque c'è una distanza, c'è una distanza, ma non di... è solo l'ultima frase, l'ultima frase. Vive, quindi sbaglia. Letteralmente, in polacco, L'altra lingua, l'altro universo linguistico, solo acusticamente vi rendete conto, chi di voi non conosce lingue slave o polacco in questo, non ci occupiamo di questa cosa, ma volevo menzionarlo sin dall'inizio, perché è un fenomeno poetico all'italiana che proviene da un'altra terra linguistica, e di cui della distanza occorre rendersi conto mentre si avvicina alla lettura nelle traduzioni. Che cosa voglio fare? O perché prendiamo questo approccio di Schimborska? Allora, si potrebbe dire così, non che riassumo, perché non è possibile riassumervi questo che voglio dire, ma tentando dire qualcosa senza prevedere colpi di scena, che devono accadere, altrimenti la conferenza non regge ovviamente. Ed è questo, che i poeti, come anche artisti di altro genere, molto spesso sono queste persone che in qualche modo sono ricettori che percepiscono di che cosa vive un'epoca, una nazione, un tempo, una cultura limitata. E noi siamo dentro. Se Schimborska corrisponde a noi in qualche modo, vuol dire che condividiamo le sue impressioni e ci immedesimiamo con questo che lei dice. Ci dice qualcosa di noi. Però noi stessi facciamo fatica a capire chi siamo noi. Ce lo diranno questi che verranno dopo. A noi rimane un po' ignoto chi siamo, quali preoccupazioni abbiamo. Però attraverso una poesia o una poetessa come attraverso altre arti possiamo in qualche modo tentare a rispecchiarci. Per esempio vi dico subito dove siamo noi secondo me. Quando io dico vivo dunque sbaglio o vive dunque sbaglia uno dice ah che bello posso finalmente sbagliare pur io. Uno si accomoda insieme con questa frase di Schimborska e dice sono contento sono mi come dicono a Verona. Invece se vi dico un'altra frase molto importante per la nostra cultura che proviene da un mondo più lontano da mondo di Palestina da mille anni fa da lingua aramaica poi tradotta in greco che si fa Nuovo Testamento che si fa la parola di Gesù di Nazare quando lui dice siate perfetti come perfetto è il vostro Padre Celeste uno dice ridete ergo giusto giusto c'è una bella distanza vivo dunque sbaglio è che finalmente elogio del sbaglio no siate perfetti perché perché perfetto è il vostro Padre Celeste vedete la distanza che tipo di insegna ci attira chi siamo noi e la domanda è anche perché e in Szymborska possiamo un pochino vedere questo allora prendiamo queste poesie facciamo con lei una ho scelto quattro poesie in cui si potrebbe dire così cosa cosa vuol dire questo vivo dunque sbaglio da dove proviene questa convinzione della poetessa diamo una poi uno sguardo su qualcosa che potremmo chiamare metafisica e ontologia mi perdonate domenica mattina queste parole pesanti però sono belle parole perché in lei è questo e poi verrà la domanda anche dunque che cosa ci rimane da fare in tale mondo perché mondo in Szymborska risulterà imperfetto e risulterà inconoscibile e dunque uno anche si domanda e dunque io che cosa devo fare cosa ci spetta in tale mondo almeno mondo come lei lo percepisce allora questa poesia che appena abbiamo letto che cosa di questa poesia possiamo dire o dobbiamo dire è una poesia scritta da Szymborska a se non mi sbaglio 49 anni dunque in pienezza della sua creatività certo in Szymborska ogni tanto chi di voi l'ha studiata o la conosce le date lei per esempio poteva covare un poema a lungo poteva da giovane scriverci una frase ma solo da anziano questa e si è fatta la poesia per esempio immaginate ancora questo immaginate Szymborska chi di voi non la conosce la sua vita la sua vita anche se sono biografie che si può indagare le amicizie un po' di storia intorno le relazioni poche avventure non è una vita da un film biografico solo un artista profondo potrebbe è una poetessa di intimità e di interiorità tutta la vita passata praticamente a Cracovia in un piccolo appartamento anche quando ho preso Nobel non voleva cambiare ritmo della vita amava la privacy si ritirava con suo piccolo tacuino in cui con una scrittura minuta componeva le sue poesie guardando il mondo da lontano accanto di lei ovviamente doveva essere una tazza di buon caffè e inseparabile sigaretta quando il suo assistente quando lei ha preso il premio Nobel ha preso un assistente il professor Michał Ruszynek un eminente rappresentante di critico letterario ora in Polonia lui era in questo momento giovane e lei era sui goccioli le ultime giornate e dice cosa vuoi vi suava lei dice guarda una buona tazza di caffè e ovviamente una sigaretta e Ruszynek le dice senti ma in tuo stato non sarebbe più prudente lasciar perdere la caffeina e la nicotina lei lo guarda e dice Michał ma tu puoi morire sano no? ecco è tipica la battuta di Schimborska lei ha vissuto quasi 90 anni dunque un po' di fumo un po' di nicotina non è andata male dunque fate come vi pare bene questa poesia 50 anni lei scrive immagine che potete cogliere questo e subito anche diciamo tutte le poesie tutte le quattro che oggi speriamo di percorrere qui uno più veloce uno più lentamente sono composte nello stesso modo lo dico subito c'è un annuncio come in questa poesia il telefono squilla in una pinacoteca annuncio poi segue una forma o qualcosa che io chiamo le litanie di Schimborska diverse cose molto simili che dicono la stessa cosa da diverse angolature sempre le litanie lei proprio compone le poesie c'è un annuncio le litanie che vanno approfondendo il tema e alla fine il colpo di scena perché qui abbiamo la situazione è questa squilla il telefono pensate a un museo a mezzanotte dove non c'è nessuno questa è la situazione chissà da dove è venuto la Schimborska questo non conosciamo Zitzimleben di nascita di questa poesia ma non importa è una fantasia veramente accaduto museo chiuso e squilla il telefono dunque uscire non c'è guardie non c'è nessuno e il suono del telefono squillo rimbomba e lei ovviamente crea in questo momento la fantasia poetica incanta lettore e sono varie figure dei quadri qui sono dei re dei profeti la moglie di usuraio un maresciallo sono quattro figure in litania poi una varietà di persone nude indistinte nude vestite sono quattro persone ognuno ha le sue caratteristiche a ognuno quasi non importa nulla perché profeti incantati di qualcosa il re non importa nulla è interessante la moglie di usuraio che sembra che sul quadro guardate c'è un qualche quadro di usuraio sono alcuni famosi c'è la donna accanto e guardano soldi e lui conta e lei lo guarda e Szymborska vede questa questa donna che stende la mano perché il quadro si trova sopra una mensola di cammino e quadro il telefono e squilla qui e lei potrebbe quasi a stendere la mano dal quadro prendere la connetta dire pronto capite questa è la immagine ovviamente non lo farà perché perché secondo Szymborska tra il mondo dei vivi e il mondo perfetto dell'arte non passa nulla non passa nulla questa poesia è stranamente anti-artistica nel senso arte rappresenta un mondo distaccato perfetto bello finito però non è toccato dalla vita non può partecipare nella vita che vuol dire vicende tragiche degli esseri umani questi re non scenderanno la donna non prenderà il telefono i profeti non importa non gli importa nulla e così via no? non succede questo non succede no? c'è una tragicità dove sta e alla fine lei dice a questi personaggi che sentono che potrebbero alla fine dice non sentono nulla non sono vivi non sentono nulla no? non importa nulla non possono partecipare nella vita di noi esseri umani e cosa succede in questa vita? in questa vita si svolge una tragedia quale? qualcuno chiama a mezzanotte ricordate una cosa qui abbiamo a che fare con un telefono che girava che si sceglieva che aveva cavo facilmente poteva sbagliare il buco e dunque numero molto più facilmente poteva sbagliare a noi oggi con cellulari neppure ricordiamo numeri che dobbiamo scegliere guai se si perdesse un telefono si può solo sbagliare il nome al massimo il numero noi non lo sbagliamo o registrando in questo caso siamo in guai ovviamente ecco la situazione è diversa la cultura è cambiata in in 50 anni perché questa poesia è stata scritta mezzo secolo fa nel 74 dunque è cambiato molto ma l'idea è la stessa e qual è la situazione? se uno chiama a mezzanotte non siamo nei paesi mediterranei siamo a nord ok? per i nordici mezzanotte è veramente mezzanotte a mezzanotte si dorme nei paesi nordici ok? e se uno squilla a mezzanotte questo vuol dire che è una telefonata importante importante voleva dire per esempio immaginate adesso uno chiama perché vuole chiamare chiama pronto soccorso perché qui muore in bambino chiama perché per esempio a mezzanotte ha deciso che finalmente alla donna che ama dirà sì e lei sta aspettando chiama non chiama se non chiama a mezzanotte storia è finita ok? o magari qui abbiamo a che fare con telefono rosso di qualche personaggio autoritario che per esempio dice se io chiamo o non chiamo tu sganci o non sganci bottoncino rosso e un missile parte per distruggere e magari questo capite com'è magari un telefono che devi fermare una possibile partita dei missili contro una città e numero è sbagliato dunque i missili partono numero è sbagliato dunque pronto soccorso non arriva bambino muore numero è sbagliato dunque i due che potevano unirsi con la vita d'amore si separano cambia tutto con solo uno sbaglio di un dito che ha scelto un buco sbagliato nel telefono vive e conclusione ironica vera vive dunque sbaglia e uno quando legge dice la vita è fatta così tante volte io ero o nocivo o alle persone senza volerlo senza volerlo è andata così e dunque ecco questo è il mondo di Schimborska se volete anche se non volete siamo qui sul mondo delle ironie dunque sulla falsa riga di Schimborska faccio le battute questa poesia anche questo nella traduzione italiana qualsiasi mia o altrui si perde una cosa e questo va detto questa è una poesia di Schimborska scritta in forma classica ci sono diciotto versetti ogni versetto ogni versetto ha tredici sillabe che è una forma tredici sillabe in un versetto una forma classica nella poesia polaca come Exa, Emeron o in altre poesie e così via e per giunta ci sono le rime quattro 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 le rime le rime in polaco sono a b a b a b c c a b a b c c a a b c b c questo è interessante dire perché Schimborska non scriveva le poesie in forma né ritmica né rimata scriveva verso libero bianco perché? perché lei diceva perché una poesia classica rimata è più facile troppo facile io cerco il ritmo interiore nelle poesie le parole che hanno tale configurazione che proprio sono uniche è molto più difficile lei sapeva scrivere verso rimato ritmato si divertiva esiste tutta serie di composizioni che al tavolo le scriveva con degli amici ma era divertimento gioco le vere poesie sono sono di verso libero in Schimborska però questo no allora quando questa è una regola quasi interpretativa quando Schimborska scrive in rime e il ritmo regolare classico chiamiamola così usa un metodo in cui sin dall'inizio dite non prendetemi sul serio qui è un gioco qui c'è una ironia già nella forma vedete ci sono ovviamente in italiano non lo notate non è possibile tradurlo ecco però chi legge nell'originale vede subito questa cosa bene questa è la prima cosa e dunque si potrebbe dire anche così essere umano non può non sbagliare vivendo in Schimborska perché noi umani facciamo parte del mondo e mondo è per definizione imperfetto lo sbaglio è iscritto nella realtà per Schimborska per Schimborska lei non appartiene a questi pensatori che dicono mondo è perfetto è bello in Schimborska è disincanto c'è ignoto c'è abisso lo vedremo fra un momento ecco leggiamo lei andiamo indietro adesso abbiamo non Schimborska che ha 50 anni ma Schimborska più giovane Schimborska che ha 30 anni e scrive la poesia progetto il mondo la traduzione forse meglio sarebbe dire ripenso il mondo ripenso riprogetto perché la parola è questa nell'originale e che cosa è questo lo diciamo anche subito un breve preannuncio per Schimborska il mondo il mondo come tale il mondo della storia il mondo della natura è terribile sotto questa da qui la sua ironia perché ironia è un scudo uno scudo ironia è una corazza Schimborska è un riccio che di fronte al dolore che la che si impone dal mondo stende piccoli aghi dei suoi versetti ironici per difendersi donna minuta spaventata dovete capire una cosa Schimborska è la filia della seconda guerra mondiale si potrebbe dire ecco lei esce da lì esce dalla seconda guerra che da parte nostra non era una passeggiata da molte parti non era passeggiata ma là era veramente buio Cracovia Auschwitz la prima poesia la prima poesia che Schimborska scrive è intitolata cerco la parola la domanda viene la domanda che si poneva alla gente della sua epoca perché lei non è unica ma lei anche come si può descrivere questo che è accaduto la seconda domanda è lecito ancora scrivere i versi è lecito praticare arte dopo tutto questo e se si con quale parole perciò lei scrive la prima poesia cerco la parola ok bene e dunque il mondo a Schimborska non piace mi dispiace dirvi in una bella domenica così a lei per certi versi non piace almeno molte dimensioni che cosa non piace vediamo e per questo lei avendo trent'anni negli anni cinquanta scrive una poesia ripenso il mondo come se se volesse dire guarda mondo come è non mi piace lo ripenso voglio un altro mondo io voglio un altro mondo quale leggiamo questo che avete voi progetto il mondo progetto il mondo seconda edizione seconda edizione corretta per gli idioti che ridano per i malinconici che piangano per i calvi che si pettinino per i cani alle loro scarpe qui facciamo una cosa è impossibile tradurlo dunque nel senso vuol dire io tutte queste versetti che in italiano si ridanno in tale modo nel fondo voglio dire ripenso il mondo e questo è un lavoro inutile che mondo è come ecco già dall'inizio avete un annuncio questo è un annuncio adesso segue la litania adesso segue la litania e poi c'è la conclusione la litania ecco il capitolo primo la lingua di animali e piante dove per ogni specie c'è il vocabolario appropriato anche un semplice buongiorno scambiato con un pesce e il pesce e tutti rinforzi nel vivere quella da tempo presentita all'istante nella lava di parola improvvisazione della foresta quell'epica di gufi quegli aforismi di riccio composti quando siamo convinti che stia solo dormendo che cosa è questa adesso interrompo perché altrimenti non leggiamo tutto ciò che dobbiamo accellerare per non trattenervi troppo che cosa è questa è una dei tratti di Schimborska nella poesia di Schimborska lei sogna è un antropomorfismo linguaggio delle cose della della natura cosiddetta morta pietre rocce piante e gli animali quasi si immedesima con questi esseri per esempio la sua famosa famosa poesia la pietra busso alla pietra farmi entrare dentro cioè voglio immedesimarmi con te voglio sentire come senti tu voglio voglio essere con te voglio che tu stia con me la pietra non risponde non ha la porta di entrata mondo lo stesso per gli animali per acqua per le piante lei le ammira ma sente una immensa distanza si può fare una forma di antropomorfismi progettando nostro modo delle leggi naturali su questo illudendoci che abbiamo capito no non abbiamo capito niente abbiamo solo forzato con la nostra mente una progettazione delle nostre categorie sopra il mondo un cantismo tanto Vito Mancusa adesso parla di canto ecco e lei sogna questo e dice ecco nel mondo perfetto dovrebbe essere questo che noi umani possiamo comprendere il linguaggio il mondo delle pietre delle piante degli animali che loro hanno creano le loro i loro dizionari le loro letterature io vorrei essere arricchita da tutto questo invece non mi è possibile mi sento lei si sente così lei si sente mutilata nel confronto del cosmo della natura e la stessa cosa vale prendete famosa poesia il gato che si raggira nella stanza dove il proprietario è morto il poema finisce queste cose non si fanno a un gato cioè non si muore perché gato non può comprendere il proprietario è morto come mio gato non capisce quando io parto solo è triste lo vedo perché dice qui no ecco e di Szymborska c'è questo dice nuovo mondo il mondo diverso dovrebbe essere una simbiosi una penetrazione reciproca tra il mondo della natura e mondo di essere umani e qui no c'è una separazione questo è il mondo di Szymborska secondo capitolo il tempo capitolo secondo ha il diritto di intromettersi in tutto bene o male che sia tuttavia lui che sgreto la montagna sposta oceani ed è presente nel moto delle stelle non avrà un minimo potere sugli amanti perché troppo nudi perché troppo stretti col cuore in gola arruffato come un passero la vecchiaia è solo la morale di fronte alla vita di un criminale dunque sono giovani tutti ecco cosa succede il terzo capitolo riguarda il tempo tempo temporalità che tempo passa e noi lo sentiamo sui nostri corpi sulle nostre relazioni il tempo normalmente nella vita corrode gli affetti si spengono le relazioni finiscono gli abbracci non si fanno più il corpo invecchia in modo irreversibile e lei dice io vorrei che tempo ci sia sì lasciamo che tempo ci sia però che non corroda che amore non finisce che amplesso rimane affettuoso e che il corpo non perde le forze non si deforma non diventa brutto vecchio inutile pieno di privo di forze questo dice ecco vorrei un mondo così ecco una pura non esiste perché lei vuole un mondo senza tempo che distrugge terzo capitolo la sofferenza capitolo terzo non insulta il corpo la morte ti coglie quando dormi e sognerai che non occorre affatto respirare che il silenzio senza respiro è una musica bella sei piccolo come una scintilla e ti spegni al ritmo di quella una morte solo così hai sentito più dolore tenendo in mano una rosa e provavi maggiore sgomento vedendo un petalo caduto per terra cosa è questo qui ovviamente mondo in cui non c'è la sofferenza ma di più in questo mondo non c'è la paura della sofferenza perché è questo che ci terrorizza la paura di sofferenza e la paura della morte la morte probabilmente non magari non è nulla quando lo faremo lo vedremo io lo penso così ma però la paura della morte ci paralizza e dice e lei dice e morire come agonia è una cosa terribile non è agonia è terribile il lungomorire chi non ha paura di questo capite no? alza la mano esce dalla sala ecco tutti rimanete ecco Szymborska dice ecco io immagino un mondo così in cui il morire non la morte il morire con la sua paura e le sue sofferenze non è doloroso uno semplicemente si addormenta ovviamente senza aiuto delle sostanze esterne semplicemente si addormenta così come se scivolasse nel sonno finito e lei sogna tal che vuol dire all'opposto vuol dire tempo corrode piante e alberi non sono comprensibili e la morte in quanto può essere lieve è sofferente in ogni caso questo è il mondo di Szymborne e lei dice io progetto un altro mondo dove queste cose non ci sono dove è diverso perché questo mondo con incommunicabilità tra diversi esseri con il mondo in cui tempo distrugge e il mondo in cui la morte è dolorosa non mi piace è sbagliato io lo riscrivo interessante questo la metafora del libro lei è una scrittrice e dunque immagina il mondo come un libro che abbia la seconda edizione metafora del mondo come il libro e lei lo riscrive come poetessa si potrebbe dire magari che arte è un tentativo di sopravvivere in un mondo impossibile per noi essere umani e l'arte aiuta una forma di zattera in cui si può navigare per un po' ogni tanto come finisce la poesia un mondo solo così cioè dove morte non è dolorosa solo così vivere e morire solo quel tanto e tutto il resto è come Bach suonato per un istante su una lama dentata che cosa è colpo di scena perché dice è un mondo così e lei inizia come musica di Bach e dice va bene la musica di nuovo arte di nuovo arte il mondo come musica però poi lei dice ecco questa musica di questo mondo che sembra un Bach a dir vero è suonata su una lama dentata o se volete su una sega dentata che guardate suono ma proprio è così e questo Bach è squalido cioè la musica di questo mondo è squalida per son boss lei la vede così da qui la sua ironia da qui suo scrivere versi per lei situazione di noi esseri umani in questo mondo è non solo drammatica che sarebbe tesa tra bene e il male ma è tragica comunque vada finisce male o come dicono un garesi coraggio sarà peggio un bel proverbio no ecco pensate ecco questa è c'è che cosa se volete subito ancora dico per poi Szymborska se volete un paragone che con chi è Szymborska Szymborska è una versione femminile e poetica e moderna di Marco Aurelio è stoica nel suo pensare manca in Szymborska uno sguardo di Soma in greco era dai stoici una forma di corpo del cosmo in cui tutto è armonioso in lei non ce lo vedremo fra un momento ma lei nel fondo è stoica e lei con i suoi occhi penetranti senza illusione disillusa guarda l'abisso della realtà questo è Szymborska è profonda però sullo sguardo lei non ha in Szymborska non troverete parole come providenza creazione solo in una delle prime poesie parla di un dio che poi dice se n'è andato per me è diventato una metafora non è un dio reale è solo una metafora dunque è una donna coraggiosa che guarda l'abisso della realtà senza cercare le consolazioni facili versione femminile e moderna poetica di Marco Aurelio leggete Marco Aurelio Marco Aurelio descrive vari esercizi filosofici per poter stare nel mondo il mondo dignitoso ovviamente però un certo cosa consola Marco Aurelio Marco Aurelio dice nel libro quinto se non mi sbaglio della sua opera dice questo che è forte è che so una cosa che se in un momento nella stanza sarà troppo fumo io posso uscire questa è versione etica dei stoici cioè se nella stanza nella realtà c'è troppo fumo non si può più vivere io so che posso togliermi da questa vita ho diritto di suicidarmi questa è la uscita dignitosa di prendete Seneca prendete tanti ecco e Szymborska c'è qualcosa del genere perché non c'è un altro tipo di consolazione bene allora cosa fa prendiamo un'altra poesia che vedremo che si chiama Utopia 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 che vuol dire Atopos che vuol dire un posto che non c'è e Topos vuol dire luogo Utopia proviene da Atopia che vuol dire non luogo vuol dire non esiste un tale luogo e di nuovo abbiamo un annuncio un'isola un'isola ideale che è un villaggio turistico e uno si offre una distrazione dall'abisso nella distrazione del benessere di villaggio turistico moderno se non arriva un tsunami e segue una litania di nuovo e alla fine c'è una conclusione la struttura delle poesie moltissime poesie di Szymborska sono scritte in tale modo vediamo questo isola su cui tutto si chiarisce qui si può stare sul suolo delle prove e certezze non ci sono le strade altre salvo quelle che portano alla destinazione gli arbusti fin si piegano sotto le risposte qui cresce l'albero della giusta ipotesi con rami risolti da sempre di abbagliante semplicità è l'albero della giusta ipotesi presso la fonte della ah dunque tutto è così più ti addentri nel bosco più si allarga la valle dell'evidenza della chiarezza se sorge un dubbio il vento lo disperde ecco prende la parola senza che la si desti e chiarisce volenterosa i segreti dei mondi a destra una grotta in cui giace il senso a sinistra il lago della profonda convinzione dal fondo si stacca la verità e lieve viene a galla domina sulla valle la certezza incrollabile dalla sua cima si dilata l'essenza delle cose malgurado le sue attrattive ecco qui inizia il colpo di scena abbiamo avuto un elenco adesso vedremo elenco delle cose che cosa è questa è una fantasia epistemologica dal punto di vista filosofico cioè in questa isola tutto ha il senso il senso è conosciuto non ci sono dubbi ci sono certezze e le prove niente vacilla nella nostra mente ecco è un elenco se fate un elenco io l'ho fatto sono dodici dodici varie angolature della stessa cosa la mente in questa isola sa tutto tutto è spiegato mondo è comprensibile essere umano è in grado di comprenderlo ecco questo si chiama normalmente nel linguaggio filosofico metafisica la metafisica vuol dire che il mondo è razionale e mondo è comprensibile meglio dire guidate da un logos più grande essere umano ha una ragione che è capace di conoscerla e questa conoscenza può essere guida può guidare essere umano nella vita e questo rende un uomo felice la felicità è possibile questo è il mondo metafisico e noi a partire di Kant di cui parla mio caro amico Vico adesso Vito è scomparso è stato è stato mandato in esilio e Szymborska è una poetessa a metafisica leggete la poesia di Metafisica si chiama Metafisica di Szymborska dove lei rifiuta la metafisica perché dice perché sono i tortellini sul mio piatto si consola con una piccola cosa e fugge da una visione generale della realtà in cui si può conoscere la causa ultima a noi umani questo non è dato nel mondo di Szymborska ok e lei interessante lei rifiuta Szymborska sa che non può sapere lei si accontenta di stare dentro i limiti che non vuol dire che non arde dentro di lei un desiderio di una conoscenza più ampia più profonda questa poesia lo tradisce lei di fatti sogna poter conoscere non avere dubbi che ci sia tutto chiaro che le direttive saranno ben disposte ma forse almeno a me non è dato come dice un uomo di oggi pensate come vi ho detto sbaglio dunque vivo vivo dunque sbaglio contenti siete perfetti come perfetto il vostro padre e in Szymborska Szymborska rappresenta questo che è tipico della modernità che modernità si è stancata del tendere verso mondi metafisici dell'aldilà e si accontenta si potrebbe elogio del limite elogio del limite siamo dentro i nostri limiti sappiamo che non vogliamo andare oltre Szymborska è proprio questa e cosa succede alla fine la conclusione la conclusione malgrado le sue attrattive l'isola è disabitata e le tenue orme visibili sulle rive sono tutte dirette verso il mare come se da qui si andasse soltanto via immergendosi irrecovabilmente nell'abisso nella vita inconceppibile ecco di nuovo è una ironia no? di nuovo crea una fantasia poetica isola belle spiagge isola è vuota le orme sono solo queste che vanno verso il mare le orme sono che vanno verso isola questa isola è stata abbandonata da esseri umani e rimane solo abisso dell'ioce abisso proprio abisso otwai in polaco rimane solo questo occhi che fissano l'abisso e Szymborska dice ecco ecco noi esseri umani per noi è insopportato sarebbe insopportato lei si consola dice ecco isola perfetta utopica sarebbe disabitata perché noi esseri umani magari non siamo in grado da soli di portare il peso del mondo comprensibile in altri linguaggi questo saper portare eventualmente mondo comprensibile si chiama fede per esempio linguaggi cristiani poi dicono è un dono che vuol dire magari non è dato a tutti e così via una virtù che va coltivata non lo so ma insomma in Szymborska è questo dunque un mondo in Szymborska vedete è imperfetto perché è segnato dal dolore è segnato dalle divisioni perché tra noi e piante c'è un abisso e d'altra parte da uno sguardo umano è un mondo a lei si presenta incomprensibile nella sua l'ultima istanza Szymborska non è una credente ci potrebbe almeno non è una non si pronuncia ecco questo che là dove in Szymborska potrebbe apparire mondo di spirito divino mondo di metafisica la cade silenzio lei appartiene a questi moderni che dicono forse c'è ma non lo dico è un po' come nel buddismo proprio lei è molto affine al buddismo molto affine tutto è collegato ma impenetrabile anzi uomo devi capire che non è impenetrabile finché nel buddismo finché non lo capisci soffri perché cerchi una risposta che non ti può essere data o ti può essere data ma se ti sarà data tu non sei in grado di portarla perché uomo finito non può portare dentro di sé l'infinito questa risposta da qui silenzio del buddha dio c'è buddha tace dio non c'è buddha tace rimane silenzioso stare serreno dentro limiti dai quali magari si travasa in modo impercepibile l'infinito ma uomo non può parlarne non può comprenderlo mentalmente da qui silenzio del buddha da qui ricerca meditativa dei moderni ecco questo mondo di Shimborska questo mondo di Shimborska imperfezione del mondo è incluso in questo mondo sbagliare dell'essere umano l'ultimo l'ultima non so se consolazione perché non io non voglio adesso mettere troppo zucchero in questo caffè amaro che è buono buono caffè di Shimborska amaro è buono di buona qualità però è dunque troppo miele dentro adesso anche no non lo mettiamo però c'è una domanda domanda risposta anche con la poesia e questo è l'ultimo buongiorno mi fa la foto in modo imperfetto niente di personale no siamo amici sempre bene allora l'ultima risposta è qui domanda risposta domanda risposta è questa Shimborska anziana Shimborska che ha ormai 80 anni scrive la poesia disattenzione disattenzione se volete in modo più breve antecipo la conclusione che poi magari se mi viene la ripeto è questa che cosa noi possiamo fare se abbiamo se viviamo in tale mondo e abbiamo tale percezione della realtà che ci rimane che ci spetta Shimborska è questa essere attenti esercitare l'attenzione questa antica virtù se volete Marco Aurelio in greco questa virtù si chiama prosoké che vuol dire attenzione prosoké le praticano buddhisti con le loro meditazioni lo praticavano stoici con prosoké attenzione si iniziava la vita saggia ragionevole attenta proprio con l'attenzione essere filosofo voleva dire condurre la vita attenta attenta che cosa mi circonda attento di come mi comporto attento come penso sono tre gradi dell'attenzione no? e Shimborska dice ecco questo è un atteggiamento tipicamente stoico tipicamente buddista non so com'è ma unica cosa per conservare la dignità di essere umano è essere attento cosa mi circonda come mi comporto dal punto di vista etico qual è il mio mondo mentale cosa sto pensando tre gradi della della prassi meditativa se volete ecco Shimborska scrive questa poesia in cui di nuovo sbagliato lo sbaglio è imperfezione perché lei si rende conto che oggi era disattenta ed era disattenta e scrive questa bella poesia che sarebbe è una ecco di Shimborska si dice in quanto questo è un binomio strano che lei ha praticato una poesia filosofica o ha praticato la filosofia in forma poetica c'è qualcosa di vero questo anche se si può discutere se va bene sposare dimensione di filosofia ma c'è qualcosa di sicuro le sue poesie sono forme di esercizi di attenzione che risvegliano nel lettore la profondità dello sguardo e si oppone a questo a questa epidemia più terribile in cui noi viviamo che si chiama superficialità scrolling di tutto non solo di telefonino ma di persone di relazioni di lavori di tutto superficialità che porta alla noia che porta all'esaurimento porta al nervo a nevrosi porta alla disperazione porta al consolazione di sostanze esterne che ci inghiacchiamo la superficialità ecco si potrebbe dire scimborsca la poesia di scimborsca di sicuro io per esempio ogni tanto quando voglio di scimborsca mi capita ogni tanto prendo tutte le sue poesie e le leggo da prima all'ultima come un romanzo è proprio un romanzo di scimborsca ci vuole non molto 350 poesie tre giorni quattro giorni senza apro e mi viene una iniezione di profondità mi alzo poi e guardo in modo diverso questa è la grandezza di scimborsca certo allora leggiamo per concludere praticamente questa poesia disattenzione e qui avete proprio di nuovo una affermazione di base una litania di comportamenti una decina di vari comportamenti e una conclusione la struttura è di nuovo chiara disattenzione ieri mi sono comportata male nel cosmo ho passato tutto il giorno senza fare domande senza stupirmi di niente ho svolto attività quotidiane come se ciò fosse tutto indovuto ispirazione espirazione un passo dopo l'altro incombenze ma senza un pensiero che andasse più in là dall'uscire di casa del tornare a casa il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per uso ordinario nessun come nessun perché e da dove è saltato fuori uno così e a che gli servono tanti dettagli in movimento ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro oppure e qui un paragone mi è mancato ecco la ironia di scimborska interrompe dicendo ecco la famosa battuta con cui lei inizia il Nobel lei si alza a Stoccolma a prendere il Nobel la donna in mezzo di tutti queste cose belle intorno privilegiata onorata e inizia dicendo dicono che la cosa più difficile è fare la prima frase in un discorso eccolo fatta ecco è tipico di ironia ecco qui la stessa cosa ero come un chiodo piantato troppo superficialmente nel muro e qui diverte il lettore e qui un'altra metafora mi manca scrivete voi perché non che le mancava ma è proprio è tipico di queste strategie che lei ogni tanto scrive scrive vi prende dentro e poi fa e poi torna di nuovo seria in bosca è così scusate mi permetto giocare ecco così è questo che anche prende lei fa una si potrebbe dire si prende gioco di se stessa prende gioco di se stessa mentre scrive non è troppo serio quando una settimana fa mi ha chiamato qualche giornalista da venire con domande serie poi ha scritto un articolo ma domanda era che cosa scimbosca avrebbe potuto dire oggi a noi e tutto mi ha detto niente cioè lei ormai ha scritto tutto soprattutto l'ultimo volume delle sue poesie si chiama basta così ha detto tutto e lui era spaventato come ma dico eh sì cioè lei ha detto tutto e sapeva benissimo che non aveva niente più da dire a noi spetta cosa noi possiamo leggere le sue poesie e interpretare per la nostra e lui mi dice e se se lei dice a me potessi chiamare la scimbosca cosa l'avrebbe chiesto e dice niente io prima di tutto non l'avrei chiamata anche se avessi il numero perché rispetterei la sua privacy perché lei è una donna molto privacy non oserei mai chiamarla anche se fosse le mie amiche no veramente no ecco bene ero ecco qui avete questa super mancano le domande perché da dove tutto sembra ovvio non mi meraviglio di niente cioè un cretino che vive così no un cretino non si pone domanda proprio z non usiamo brutte parole però è proprio stupido da stupido comportamento no ecco ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro oppure è qui un paragone che mi è mancato e riprende la litania dice uno dopo l'altro avvenivano cambiamenti perfino nell'ambito ristretto di un batter doppio su un tavolo più giovane da una mano di un giovane giorno più giovane il pane di ieri ma era tagliato diversamente io non mi sono meravigliato le nuvole erano come non mai e la pioggia era come non mai poiché dopo tutto cadeva con gocce diverse la terra girava intorno al proprio asse ma già in un spazio lasciato per sempre cioè nuovo inedito è durato ventiquattro ore buone mille quattrocento quaranta minuti di occasione ottantaseimila quattrocento secondi in visione il savoir vivre cosmico benché taccia sul nostro conto ecco è interessante il mondo è gentile è un savoir vivre del cosmo che ci circonda ma su noi per Perssemborska taccia il mondo per lei non dice niente su cui sono io c'è un silenzio tuttavia esige qualcosa da noi un po' di attenzione però so che qualche frase di Pascal è un po' di partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote ecco si potrebbe dire grazie si potrebbe dire buona domenica si potrebbe dire fate un po' di attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti